vediamo quindi che amore arriveranno nel 2022 che amore arriveranno nel 2022 scegliete o il buddha o la piramide o la stele o il buddha o la piramide o la stele quindi togliamo la stele togliamo la piramide e partiamo con il buddha bene facciamo la prima mescola utilizzando gli arcani maggiori vediamo un po con gli arcani maggiori dei tarocchi vediamo un attimino che cosa c'è fuori per tutte le carampane del margocione ricordo che quando sarà già l'egregola sta crescendo riusciremo ad utilizzare delle situazioni importanti vediamo un attimino allora io mescolato taglio e giro perché intanto diciamo vediamo cosa ci offre questa prima lettura allora bene iniziamo subito con la torre dritta quindi una rottura quindi tutte le persone che sono fidanzate o sposate o sposati iniziamo con una bella torre dritta che è una bella rottura dovete togliere dei coglioni le vecchie zavore quindi questo è una cosa fondamentale levatevi dei coglioni le vecchie zavore vecchie carampane e questo non è brutto perché se esce subito la torre vuol dire e beh se sei singolo non importa devi togliti dei coglioni l'idea di essere single devi buttare via qualcosa la torre vedete che cadono le cose dalla torre devi buttare via qualcuno della torre un'idea in testa una situazione saluto anche andrea giovani quindi questo è quello che dovete togliere dei coglioni qualcosa dovete togliere dei coglioni e beh tra l'altro viene anche una bella carta dopo perché viene fuori la ruota della fortuna dritta quindi il che vuol dire che se vi togliete dai coglioni quello che ci avete in testa se vi eliminate quello che avete in testa avrete fortuna solo che voi siete siete delle malgascione delle carampane non volete mai togliervi le cose invece dovete togliere dei coglioni perché soltanto se vi liberate riuscite a ad andare oltre e questa è una cosa fondamentale ma può essere anche un'idea una forma mentale può essere anche un esatto mi tolgo l'amministratore del cazzo dai coglioni va bene o e poi abbiamo un'altra figura importante la fortuna riguarda il papa allora il papa è un simbolo interessante il papa perché intanto il papa canta messa con tutti ma comunque è una figura spirituale il papa è sempre una figura spirituale comunque quindi bisogna fare un atto di devozione vi sta dicendo anche andate a seguire un po la vita spirituale no perché il papa è comunque una figura importante una figura simbolica nei tarocchi rappresenta comunque un personaggio importante nei tarocchi il papa rappresenta sempre una persona di riferimento una persona che ti può in qualche modo indirizzare una persona che ti può mandare che ti può dare diciamo dei delle indicazioni quindi una guida un riferimento vedremo poi nelle altre carte perché non utilizzo solo i tarocchi più utilizzo anche diciamo queste carte qua che sono le carte dei reggis akashici i tarocchi zen di osho e le carte del del transurfing bene e sta dicendo anche la forza tutte carte dritte tra l'altro la forza è un'altra bella carta una carta di potenza ti dice allora qua è lo scoglio iniziale se tu ti togli dai coglioni diciamo così una zavorra iniziale poi tutto fila liscio perché avrai fortuna avrai anche l'appoggio di una persona spirituale avrai anche l'appoggio di una persona che ti può dare anche dei risultati importanti e avrai la forza per ottenere questi risultati in questo caso per ottenere una relazione sentimentale affettiva ma dipende da te fondamentalmente questo è sempre la cosa facciamo cinque carte perché cinque è il numero dispari e viene anche fuori la papessa quindi abbiamo fatto non plan questo cosa mi sta dicendo che vanno anche un po per gli uomini un po per le donne pap e papessa diciamo sono fondamentalmente 22 come dire elementi che fanno parte proprio dell'energia maschile dell'energia femminile quindi se che siano uomini se che siete donne o quello che siete trans non so se siete voi avete tutte comunque tutte le possibilità di raggiungere degli ottimi risultati però ci deve essere quello scogli iniziale cerchiamo di approfondire utilizzando un po i tarocchi zen di osho e poi anche altri tarocchi vediamo che ci dicono i tarocchi zen di osho per cercare di capire un attimino come vanno le cose e vediamo un attimino di capire come vanno le cose utilizzando anche i tarocchi zen di osho che possono dare anche alcune indicazioni importanti anche qua tagliamo e vediamo un attimino anche il tarocco zen di osho che ci dice beh ti sta dicendo allora devi imparare a divertirti a prenderti la vita vedete è la celebrazione perché se tu sei sempre hai sempre il grigno hai sempre il grugno sei sempre incazzata depressa vaffanculo non riesce a raggiungere niente sei solo una cretina e invece devi imparare a danzare sulla pioggia e qua ti sta dicendo anche la carta che cosa devi fare deve evitare l'isolamento isolamento perché se sei isolata non ti capita un cazzo non ti capita niente e infatti dovrai avere una nuova visione della vita una nuova possibilità per andare oltre per andare oltre che è molto importante e vediamo ancora anche qua cinque carte di questo e lasciarsi andare le cose accadono naturalmente se tu ti godi la vita è inutile che ti fai delle pippe mentali ti fai delle delle paranoie mentali e resti devi lasciarti andare utilizzare l'energia e la creatività quindi per l'amore è anche creativo non è soltanto un qualcosa che si sviluppa in modo diciamo non è un qualcosa che si sviluppa razionalmente noi razionalmente possiamo innamorarci ma l'innamoramento è comunque un evento creativo fondamentalmente dobbiamo imparare a sviluppare creatività ricordo che chi volesse entrare a far parte della chat può semplicemente con due euro si abbona al canale e non solo entra a far parte della chat poi dopo risponderò anche ad alcune domande vostre risponderò anche ad alcune domande vostre alle persone che sono in chat potranno farmi una domanda e scegliere un numero e risponderò adesso faccio un giro su questo poi rispondiamo alle persone presenti nella chat mi faranno una domanda e risponderò con le carte adesso però facciamo questo nel frattempo voi avete possibilità di abbonarvi e di entrare bene qua è una carta che abbiamo visto qua sta dicendo semplicemente che ci sarà una relazione importante quindi un patto importante bene direi che per questa prima stesa per questa prima stesa abbiamo visto tutte le cose che c'erano da vedere è molto importante quindi superare il primo impasse la prima carta che era la torre la dice abbastanza lunga su quello che che bisogna fare la prima carta è sempre la carta fondamentale quindi passiamo alla piramide e vediamo un attimino cosa ci dice la piramide vediamo un attimino che ci dice la piramide poi risponderò alle persone che sono in chat quindi preparatevi a qualche domanda rapida e rispondiamo quello che dovete fare voi che siete in chat pensate a una domanda è un numero un numero tra l'uno e il nove ok vecchi carampane perché adesso faccio questo giro della piramide della stela e poi tutte le persone che sono in chat potranno fare una domanda e alla quale devono però fare una domanda breve che io possa leggere breve una domanda ai tarocchi e e devono dirmi un numero da l'uno al nove allora tagliamo giriamo vediamo che ci dicono sempre i tarocchi qua oh il sole quindi perché ha scelto la piramide il sole splendente ragazzi il sole proprio non è soltanto il simbolo del raggiungimento ma è anche il simbolo proprio della coppia vedete che c'è una coppia quindi chi ha scelto la piramide arriverà un amore e anche un amore bello un amore importante guardate il sole le stelle qua oramai le carte è inutile stare andare a stressare più tanti tarocchi perché quando dicono cose importanti è inutile andare a rompere mi stanno dicendo il sole ti do le stelle non rompere più i coglioni a continuare a chiedere no perché quando le carte danno risposte precise risposte marcate è inutile che bisogna andare lì a richiedere altre cose vediamo di approfondire un attimo abbiamo la nostra debora corazza benvenuta debora quindi abbonatevi al canale come ha fatto debora entrate in chat benvenuta debora e poi preparatevi una domanda preparatevi una domanda e un numero una domanda a cui risponderanno i tarocchi è un numero allora tagliamo anche questa e vediamo un attimino solo per approfondimento cosa ci dice guardate ma sembra che venga proprio guardate la totalità quindi vuol dire che c'è proprio l'unione tra due persone io direi che questa stesa qua i tarocchi li stiamo come dire stressando da un certo punto di vista però chi ha fatto questa scelta se la domanda dopo però la domanda ragazzi dopo la domanda dovete scrivete dopo appena ho finito il giro mi fate la domanda e dito una domanda breve dito un numero dovete scrivere una domanda con un numero ma non adesso appena finito questo perché questa carta questo giro sta andando bene vediamo un attimino c'è stato bene ormai è praticamente palese vediamo un attimino che ci dice qua ancora questo ebbè ci dice i cristalli l'energia quindi c'è anche l'energia io direi di non andare più a stressare perché qua abbiamo avuto tutte le risposte quindi le persone della chat questa è una una lettura per le persone della chat gli altri che sono fuori che non sono iscriviti abbonate al canale possono ascoltare sicuramente possono trarre degli spunti ma l'egregora il collegamento energetico è ovviamente forte con le persone che sono in chat quindi con le persone che sono in chat c'è un collegamento energetico che è proprio queste egregore che stiamo andando a creare per cui le persone che sono in chat hanno la possibilità di avere un risponso dalle carte che è un risponso preciso diciamo così poi certo chiunque può ascoltare ovviamente ma le persone nella chat come dire è la loro e it's il loro tempo e la loro possibilità vediamo un attimino perché ho scelto la stele quindi passiamo alla scelta della stele Tanto devo ricordarsi quindi preparatevi anche una domanda perché presto ci sarà una domanda e preparatevi una domanda alla quale darò una risposta preparatevi una domanda e un numero dovete dimmi una domanda e un numero tagliamo giriamo una domanda e un numero vediamo un attimino che ci dice questo beh è uscita la papessa di nuovo la papessa ci sta dicendo che ci può essere una donna è uscita beh è uscito di nuovo il sole ragazzi cioè anche qua ce l'ha è uscita in seconda battuta è il sole perché prima è uscita la papessa la papessa rappresenta un po' la spiritualità ed è uscito l'innamorato ma al contrario infatti volevo dire che anche la papessa per le donne potrebbe rappresentare un antagonista quindi mi sta dicendo avrai successo ma c'è qualcosa c'è un antagonista c'è qualcosa infatti l'innamorato l'innamoramento c'è ma è uscita una carta al contrario quindi vuol dire che questo innamoramento è presente sicuramente un coinvolgimento è presente ma però è un coinvolgimento da lavorarci un pochettino sopra diciamo così da lavorarci un pochettino sopra perché da lavorarci un pochettino sopra la papessa per l'uomo può rappresentare allora per la donna la papessa può rappresentare un antagonista per l'uomo la papessa può rappresentare una relazione una relazione più però mentale più cerebrale una relazione meno fisica questo è importante quindi ricordo che chi deve scrivere nella chat però deve fare l'abbonamento ragazzi vale un po per tutti quindi warm all chi volesse scrivere in chat deve fare l'abbonamento per la regola vale per tutti quindi la chat è solo per gli abbonati allora quindi tagliamo anche qua e andiamo a vedere perché è una questione di egregore che andiamo a creare andiamo a vedere allora qua mi sta dicendo questa carta infatti sembra che proprio le carte tra loro si parlino perché è venuto fuori proprio il il compromesso quindi è una relazione sicuramente può andare ma che richiede dei compromessi non è come quella prima dove tutto sembrava andare liscio come l'olio e c'è qualche compromesso ma d'altra parte i compromessi nelle relazioni sentimentali effettive ci sono però vedete che da anche la carta dell'esaurimento quindi ci può essere un po di stress diciamo che è una relazione che può andare avanti ma con qualche con qualche stress con qualche diciamo come dire problematica e anche qua ti sta dando la soluzione divertiti cioè goditi la vita fondamentalmente se vuoi ottenere dei risultati e ascolta soprattutto la tua voce interiore la voce interiore rappresenta quella parte interna che abbiamo che ci può dare ora vediamo un attimino ancora qualche cosa cosa ci dicono i registri cascici e poi preparatevi la domanda che risponderemo con utilizzando altre carte che sono le carte del transurfing le carte del transurfing allora vediamo un attimino il registro cascici cosa ci dicono beh confermono un attimino sarà una relazione ma legata molto all'amicizia e quindi e come dicevamo prima veniva anche fuori la papessa no quindi è una relazione ma la sessualità la parte trasgressiva la parte passionale è sicuramente un po ridotta quindi non è detto che sia è una relazione che forse per questo motivo può generare anche stress però sicuramente è una relazione diversa dall'altra da quella che abbiamo visto perché aveva scelto la piramide dove c'era proprio il coinvolgimento la passione qua è una relazione basata diciamo più anche sull'amicizia basata anche sul con una persona che può essere un po stressata però diciamo si può sbloccare la situazione detto che resti bloccata e si può tranquillamente sbloccare non è come nel primo caso che è una situazione un po manipolativa un po quale situazione può anche sbloccarsi quindi abbiamo fatto questa prima questo primo giro diciamo così e adesso volevo utilizzare le altre carte per dare una risposta alle vostre domande quindi quello che dovete fare fare una domanda e dare un numero è un numero Grazie a tutti.